A questa realtà occorre reagire, non lasciarsi prendere da scoramenti o da sensazioni di impotenza, bisogna che si acquisti maggiore coscienza che a questa aggressione è necessaria una reazione di tutta la realtà sociale, è necessaria una reazione che isoli la violenza, ogni forma di violenza ed è necessario ricostituire nel tessuto sociale quei valori che sono a base di una convivenza che possa essere accettata e accettabile da tutti. Grazie a tutti!